qualsiasi lesione sospetta presente nella bocca che non guarisce entro 15 giorni deve essere sottoposta alla biopsia la biopsia del cavorale può essere appunto di tipo escissionale se la lesione è di piccole dimensioni oppure incisionale se la lesione è invece di grandi dimensioni nella biopsia escissionale la lesione di piccole dimensioni e quindi si riesce a rimuovere tutta attraverso un disegno chirurgico a forma di losanga si utilizzano in questo caso i coloranti vitali dei quali ne ho parlato in un altro video a cui ti rimando si asporta un centimetro e mezzo per ogni lato di tessuto apparentemente sano la biopsia invece incisionale si utilizza per lesioni diffuse in questo caso la lesione è troppo grande diffusa all'interno del cavorale e non è possibile rimuoverla tutta e completamente per cui si prelevano dei frustoli di lesione e dei frustoli di tessuto apparentemente sano in questo caso il disegno chirurgico è ellittico la punch biopsia invece indicata nelle patologie a carattere neoplastico pena l'aumento del rischio di metastasi se si usa una diciamo biopsia convenzionale e chiaramente la biopsia si può eseguire sia con laser che con la lama fredda tuttavia il laser è sconsigliato per esempio nelle lesioni che hanno un carattere vescicolo bolloso altro ausilio è il FNAB che sta come acronimo per fine needle aspiration biopsy cioè la biopsia ad agua aspirato quest'ultima permette infatti di prelevare con un microfustolo di tessuto della lesione e di analizzarlo e chiaramente si utilizza soprattutto per quei tipi di lesione che sono a carattere nodulare e per elaborare una diagnosi corretta si può seguire oltre alla convenzionale diciamo colorazione con ematossilinosina anche l'immuno isto chimica si manda il prelievo a prescindere dalla tecnica utilizzata all'anatono patologo che poi potrà porre diagnosi istologica di certezza grazie a tutti